E' stato seguito! Mi fa emozionare la storia, mi fa emozionare, sapete che sono lì! Buonasera a tutti, non dimenticate ragazzi, io sono Nico Portis, mi state seguendo e finalmente ci sono vegetali e ci sono presenti a voi. Devo scusare che mi sto disturbando, ma basta con questa crisi, storie di denaro, tutta la situazione che angoscia la gente. Non ci vuole più storie di crisi, problemi di denaro, tutto quello che si vuole. Ci vuole un po' qualcosa che cambia, spettacolo, intrattenimento e divertimento. Adesso ci vuole un po' arte, divertimento e tutto quello che si vuole. C'è commozione quando si parla di arte, spettacolo e intrattenimento. Stavolta in Sardegna non c'è solo sette, crisi e denaro, ma ci vuole allegria e intrattenimento. Si riparte così l'Italia, non tutti i che vanno su dove abbiamo capito. Cambiamoci bene, l'appuntamento è del sito www.zerocloni.it, c'è un sito per voi, mi fate commuovere se non lo fate. www.zerocloni.it, uno spettacolo da non mancare, 27 luglio 2012. Per seguire il spettacolo vero evita che tutto di rilancio, insieme ai ragazzi di rap. Il divertimento è una sera del 27 luglio, c'è un appuntamento importante, ricordate bene, il 27 luglio 2012. Manca 5 giorni al giro di boa, c'è uno spettacolo da non mancare. All'appello venite a seguire questi grandi artisti di rap in Sardegna. Esattamente hanno inaugurato un sito www.zerocloni.it, seguitelo e sarete con noi a divertirvi. Ciao! Attenzione, non mancate. Ok, appuntamento, non mancate. Ciao!